Videobox web è offerto da Videobox web è offerto da Videobox web è offerto da Ciao, stiamo a Stando sempre vestigiano Sì, strano ma vero infatti ci troviamo proprio qui nelle case di Babbo Natale senza Babbo Natale Ci fa piacere perché abbiamo fatto le foto vicino alla renna Il pupazzo di neve, non so se mi spiego Ci fa piacere comunque questo progresso ci fa piacere che ci stiamo attivando insomma Sì 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 siamo proprio fiere di San Giuseppe Vesbiano Però auguri, auguri, auguri Buonasera, buonasera a tutti Siete stati magnifici, spettacolari ad averci ospitato fino a San Giuseppe Vesbiano È vero che siamo cugini perché siamo dalla città di Poggio Marino Che possa pigliarlo di esempio anche il nostro sindaco, i nostri amministratori Bravo e complimenti al sindaco di San Giuseppe Vesbiano Aguri, tanti auguri, buona Pasqua a tutti i bambini del mondo Buon Natale Buon Natale a tutti quanti voi Ciao salutate Ciao 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 Buon Natale Sì siamo a grande fratello È pronto può andare? Scusa vedete che si sta muovendo qualcosa Allora che cosa? Eh sì è normale che si muove Adesso è partito? Ci siamo? Auguri a tutti quelli che mi ascoltano che non conoscono e anche agli altri che non conoscono Arrivederci grazie Auguri di Buon Natale Buon Natale Scusa 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 Ciao, ciao a tutti e in bocca al lupo! E sì, gli auguri di buon Natale! Di buon Natale! Ehi, ciao! D'Ambrosio e Fotografi, auguri! Auguri! Auguri a tutti! Only D'Ambrosio e Fotografi! Ciao! Ciao, ciao! Auguri, auguri! Dai, dici qualche frase! Mi sono emozionato! Mi fa un buon Natale, vieni presto! E riportati di noi! Auguri buon Natale! Stiamo che ci verranno che così sordi! E forza Napoli! Forza Napoli! Ciao, buonasera! Volevamo fare tanti auguri a tutti i bimbi bisognosi! Vero bimbi? Sì! E che l'anno prossimo sia un anno un po' più... Come dire... Bene! Bene! Fate tanti auguri a tutti! Tanti auguri a tutti! A tutti? Bambini poveri! Compreso quelli non poveri! Ragazzi, siamo qui! Non so perché... Auguri! Auguri! Ciao! Auguri di buon Natale e un felice anno nuovo a tutti! Ciao! Ciao mamma! Ciao Saverio! Facciamo gli auguri a tutti i nostri familiari! A mio cognato che è in Germania insieme a Raffaella e Ottavio! Un augurio a Antonella! Un augurio a mia sorella che è a Parigi insieme ai figli! Un bacione forte a tutti e buon Natale a tutti! Da parte mia... E' mia! Luigi è pulso qua a dare i migliori auguri a tutti in famiglia! A tutti quelli che ci vogliono bene e a quelli che non ci vogliono bene! Un saluto particolare capito? Ma a me... E tanti tanti auguri! Saluto in famiglia! Un bacio e arrivederci! Auguri buon Natale! Da parte nostra! Da parte mia e di Lella! Che è più basso si vede! Siamo all'8 dicembre fa freddo! Ciao ragà! Uscite tutti quanti a San Josef! E' bellissimo! Ragazzi! Dovevi dare il messaggio! Per me la boccia! E ma nanna che li leo sono due persone! Sono due persone molto troppo serie! Non si divertono! Non fanno c***o da una mattina alla sera! Invece io invece vi diverto! Ciao un saluto! Auguri! Tanti auguri! Che dice auguri a Papi? Oh! Auguri! Buon Natale! Mi sa che l'anno prossimo sia un anno diverso da questo! Un poco con la crisi! Un poco... Un poco! Un poco! Un poco! Speriamo che vada sempre meglio! Ciao! E portiamoci tanti regali e auguri da Babbo Natale! Ciao! 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 Auguri! Un auguri a tutti! Di Buon Natale! Di Buon Natale! Di Buon Natale! Come fa Babbo Natale? Oh oh oh! Oh oh oh! Merry Christmas! E dici qualcosa Luigi dai! Dici auguri! 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 Auguri a tutti di San Giuseppesi! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Auguri! Mamma e papà! Tanti auguri di Buon Natale! Buon Natale! Da Pasquale Blond e Angelo Blond! E le due gemelle! Ciao! 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 Auguri di Natale a tutti dall'Academy! Academy Awards! Ciao! D'Ambrosio i fotografi! Academy Awards! Meno crisi! Meno crisi! Brava! Nei paesi africani anche! Ma noi siamo più africani dei paesi! Sì! Sì! Speriamo di trovare una soluzione, un auguro anche per il cancro, per la leucemia! Speriamo e incrociamo le dita! Sì! Auguri e Buon Natale! Ricordatevi donare vita! Ciao! Ciao! Speriamo che questo Natale sia bello, ci porti tanti doni! Senza chili in più! Specialmente senza chili in più! E senza avere più le cose! Vabbè! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale a tutti! Ciao! Ma con chi sto parlando? Non c'è più niente! Ci amo stare anche se non... Allora, pronti? Mamma fa lo saluto al... A chi salutiamo? A chi salutiamo? Che dobbiamo dirci! Ciao e auguri di un Buon Natale a tutti! Ciao! 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 Auguri a tutti! Buon Natale! Io ti chiamo Maria! Non c'entriamo! Non c'entriamo! Non è più Bordoni! Ragazzi! Mi sento a presto! A presto! Dende! 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 Dende!